Ilusione, divertimento, velocità, valore, potenza e rock'n'roll. Ogni uomo comincia a guidare la sua prima macchina all'età di tre anni. Ci sono passioni che non hanno età, che superano le mode, che crescono con i ragazzi di tutto il mondo. Noi di Hot Wheels le conosciamo bene, lavoriamo affinché tutti possano coltivarle, le aiutiamo a svilupparsi giorno dopo giorno. Non produciamo semplici veicoli colorati. Lavoriamo per alimentare nei ragazzi di tutte le età emozioni forti, vere. A bordo di ogni veicolo Hot Wheels vivono i sogni di molte generazioni di ragazzi. Da sempre li guidiamo attraverso una crescita all'insegna del divertimento, delle emozioni, della felicità. E ogni anno anche noi cresciamo con loro. Se siamo il leader mondiale, è perché sappiamo accendere la competitività. Quella sana, che rende i nostri ragazzi più sicuri, che li spinge a dare sempre il meglio senza mai giocare sporco. Se siamo amati da tutti i papà, è perché sappiamo dare gas all'ottimismo. Quello giusto, che attraverso le sfide del gioco, aiuta i nostri ragazzi a guardare al futuro con coraggio e con speranza. Se siamo conosciuti in tutto il mondo, è perché sappiamo spingere l'autenticità. Quella che fa crescere i nostri ragazzi più sicuri, più onesti, più ostinati. Se siamo i preferiti dai bambini, è perché sappiamo far correre l'esuberanza. Quella più spettacolare, immaginativa, insuperabile. Se tutti ci hanno guidato almeno una volta nella vita, è perché sappiamo far scattare il coraggio. Quello temerario, intenso, che i nostri ragazzi hanno dentro. Un coraggio mai gratuito o spericolato. Continueremo a correre su questa strada, trasformando ogni traguardo in un punto di partenza e il piccolo sogno di ogni ragazzo in una grande passione. Grazie per la visione!